Cari genitori, buongiorno da Andrea Cartotto. Chi vi parla è un docente ed esperto certificato in materia di nuove tecnologie. Ho deciso di condividere con voi la mia esperienza nell'utilizzo di una ottima piattaforma, gratuita, sicura e facile da recepire anche per le famiglie e per i ragazzi, che ci consenta di strutturare al meglio in questo momento e non solo una video lezione. Cioè riproduciamo il miglior contesto nella didattica a distanza rendendo facile la vita anche alle famiglie. La piattaforma si chiama Hub Digitale HUB ed è interamente personalizzata e messa a disposizione gratuitamente per tutti gli istituti scolastici d'Italia che ne fanno richiesta da Fondazione Franchi. Guardate il sito di riferimento è fondazionefranchi.it ed un clic su Formazione Online a destra permetterà anche a un genitore, dunque anche a voi, di richiedere delle informazioni. Fate vedere questo video anche ai colleghi, dunque ai docenti dei vostri ragazzi, se già non conoscono ed utilizzano la piattaforma. Vi mostro, portandomi sulla pagina principale di Hub, quella dove accede il docente, un pochino come si avvia da parte nostra e poi come si riceve da parte vostra la video lezione. Io entro perché io sono un utente registrato come docente, ma le famiglie e gli alunni ricevono dal docente, si preferisce a mezzo registro elettronico, ma va bene anche qualsiasi altro mezzo idoneo, questo indirizzo. Cioè ogni classe ha un suo url, un suo indirizzo web personalizzato. Io faccio un clic sul mio tasto copia e lo diffondo. La lezione non comincia sinché io non clicco avvia e se l'insegnante non è in classe nessun alunno resta da solo all'interno della classe o vi può rientrare. Pensate alla scuola nel senso tradizionale del termine. Se la scuola è chiusa nessuno deve poter accedere e se la porta dell'aula è chiusa ancora meno. Ora chiudo per un secondo il mio faccione e vi mostro proprio che si fa. Io clicco su avvia e quindi con anticipo rispetto naturalmente all'inizio della lezione faccio partire la mia stanza. Sia l'insegnante che l'alunno deve fare semplicemente questo. Quando ci viene chiesto come vogliamo partecipare, noi partecipiamo col microfono per essere attivi. Inutile partecipare come soli ascoltatori. Non appena clicco io in realtà non faccio altro che dire uno, due, tre, prova. Cioè verifico che mi si senta. Faccio un clic sul pollice verde e sono in classe. Io consiglio di utilizzare un microfono cuffia come quello di un banale smartphone, quindi una cosa che possiamo tutti avere. Pulsanti facilissimi di gestione. Io clicco ora su mostra webcam e condivido il mio volto con avvia condivisione perché esattamente come in classe è importante per un discorso empatico e anche per un discorso di ricezione dei contenuti che l'insegnante si veda e si senta. Mentre non è fondamentale che gli alunni si vedano e si sentano tutti insieme perché io posso gestire la mia lezione dando delle linee guida chiare per tutti. Tra un istante vi mostrerò un brevissimo esempio di lezione dove capirete meglio proprio quanto io vi sto raccontando. Per ora mi limito a farvi vedere che abbiamo una chat, io posso parlare con i miei ragazzi pubblicamente o in privato richiamandone solo qualcuno. Posso utilizzare la mia lavagna, ho esattamente l'elenco di tutti i miei allievi, posso verificare le presenze, posso addirittura vedere se c'è qualcuno che si è appisolato sulla tastiera. Ricordo che app digitale è disponibile ed accessibile via internet mediante un qualsiasi programma di navigazione browser, da computer, da smartphone, da tablet. Tra un istante vedrete l'esempio della lezione di cui vi parlo ma vi mostro che terminata la lezione perché ho detto che è assolutamente sicura e nessuno può accedere perché io vado a cliccare sui miei tre pallini in alto a destra. Nel momento in cui io clicco su fine meeting la porta della classe è chiusa. Inoltre durante la lezione io ho facoltà di intervenire e di gestire anche i microfoni e le webcam dei ragazzi. Perché questo? Per un controllo ferreo? No! Per garantire la sicurezza di tutti e per garantire anche a voi famiglie che l'insegnante esattamente come in classe debba essere il riferimento dei ragazzi, un porto sicuro e che dunque come ci si affida al docente in aula ci si affida anche al docente nel contesto della lezione con strumenti digitali. Bene ragazzi, buongiorno! Cominciamo allora la nostra lezione. Come ogni lezione che si rispetti, tanto facciamo un pochettino l'appello, io direi che faccio suonare la campanella. Allora, vediamo un pochettino. Vedo che Viola è presente, Emanuele è presente, presente Claudio, bene, direi che ci siamo tutti. Allora, che argomento vi propongo oggi? Cosa andiamo a vedere? Parliamo di matematica e parliamo del teorema di Pitagora. Allora, chi era Pitagora? Cominciamo a dircelo prima di parlare di matematica. Pitagora era, pensate un po', un filosofo ed anche un matematico greco, ok? Viveva in un posto che si chiamava Samo. E ora capirete perché è importante. Insomma, chiaramente Pitagora come matematico e come filosofo di tanto in tanto andava anche a parlare con chi era il potere in quel periodo. E in quel periodo a Samo c'era al potere un tiranno dal nome Policrate. Come succede anche adesso, ragazzi, in alcuni casi quando si va a parlare con qualcuno occorre attendere un attimo quella che noi chiamiamo una sala di attesa. Questa è una foto dell'epoca che state vedendo sulla lavagna che ci dice più o meno, ecco, come potesse essere quella dove era seduto Pitagora. Pitagora, mentre attendeva di essere ricevuto da Policrate, si dice che abbia avuto la grande intuizione del teorema di Pitagora. E sapete come? Si è messa a guardare le piastrelle. Si è messa a guardare le piastrelle, guardando le piastrelle si è reso conto a un certo momento che questa piastrella, se io la divido con una linea in due, intanto è quadrata. Pitagora ripartendola in due parti genera due triangoli, non due triangoli a caso, ma due triangoli rettangoli e da lì è nato il suo teorema. Cosa c'entra il teorema di Pitagora con un triangolo e con un quadrato? Guardiamo una piccola clip video, quindi un piccolo cartone che ce lo racconta e prestate molta attenzione perché tra un attimo vi interrogo e voglio controllare se avete ben capito. Allora, andiamo un pochettino a sentire cosa ci viene raccontato. Bene ragazzi, oggi vi voglio parlare di uno dei teoremi più noti della geometria euclidea. Mi riferisco al teorema di Pitagora, il quale insieme al suo inverso fornisce una condizione necessaria e sufficiente per la costruzione di triangoli rettangoli. Oddio, già mi sento male. Sapete benissimo che un triangolo si dice rettangolo quando uno dei suoi angoli è pari a 90 gradi, un angolo retto per l'appunto. I lati del triangolo che formano l'angolo retto sono chiamati cateti, mentre il lato restante, ovvero quello opposto all'angolo oretto è detto ipotenusa. Ragazzi, il teorema di Pitagora ci dice che in ogni triangolo rettangolo l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è sempre equivalente alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Bene ragazzi, avete sentito la spiegazione, no? Ok? Quindi l'area del quadrato costruito sulla ipotenusa è uguale alla somma delle aree costruite sui cateti. Quindi il mio collega, ma vedete, con gli occhiali, no? È un pochino più grande di me, ci ha spiegato questa cosa. E vediamo un attimino con l'aiuto della lavagna se abbiamo capito. Allora, intanto avremo la nostra lavagna proprio davanti al naso e io vi direi anche che essendo matematica utilizziamo questa lavagna quadrata, d'accordo? E attenti, siccome vedo che c'è anche un allievo assente, io avvio la registrazione così poi in una maniera accurata valuto se è il caso di spedirgliela. Ecco, clicco ed avvio la mia registrazione della lezione. Intanto, per voi che siete presenti. Allora, vediamo un po', comincerei da Emanuele. Allora, Emanuele, in questo caso sto tracciando una forma geometrica, come puoi vedere. Vado a disegnarla. Dunque, Emanuele, accendi il microfono per favore, solo il microfono. E in questo caso, in base anche al cartone che hai visto, questo è un triangolo qualsiasi o ha un nome. Si chiama il triangolo rittano. Bravo. Allora, o io, o il professore più grande, siamo stati convincenti. Spero io, Emanuele. Molto bene. Bravo, per favore spegni il microfono. A questo punto, interrogo, ed interrogo facendo venire alla lavagna, Viola. Viola, per favore, accendi il microfono e la webcam. Così controllo un pochettino se sei ben attenta. Benissimo, Viola. Ciao, Viola. Eccoti. Ciao. Senti, Viola, io ho acceso la lavagna per cui tu ora hai i miei stessi poteri. Senti, Emanuele ci ha ricordato che questo è un triangolo rettangolo. vediamo se hai capito. Segna, se lo vedi, se c'è un angolo particolare in questo triangolo e prova a dirmi di quanti gradi. Allora. Brava. Sì. Sì. Bravissima, Viola. E allora a questo punto significa che la matematica, se spiegata così, diventa un po' più simpatica. Viola, molto bene, vedo che hai già spento la webcam, già spento il microfono. A questo punto, ragazzi, io farei una piccola verifichina. Voglio controllare ancora se siete attenti. Allora, facciamo la nostra verifica. per cui io vi ho preparato un piccolo quiz. Attenti bene, quelle che vedete sulla lavagna sono le domande. Voi avrete i vostri bottoni per rispondere, mi raccomando, correttamente e rapidamente. La domanda è un triangolo si dice rettangolo quando uno dei suoi angoli è due punti. Potete scegliere tra le risposte A, B, C e D. Vediamo un pochettino. Via. Votiamo. Molto bene, molto bene. Allora, io sto già vedendo i risultati. Abbiamo Emanuele molto bene, ci dà la risposta corretta. Viola ci dà la risposta corretta. Attenzione, io vedo e non pubblico appositamente i risultati perché non dobbiamo penalizzare qualcuno ma è importante che tutti apprendano. Vedo che c'è Claudio che ha sbagliato a dare la risposta. Allora Claudio, visto che mi senti, a questo punto vado un attimino avanti con la lezione e poi ti devo rispiegare questo passaggio sul teorema di Pitagora. D'accordo? Bene ragazzi, allora a questo punto procediamo con la nostra lezione.